Saranno intensificate le azioni di controllo e prevenzione nella città di Andria e da breve ci potrebbero essere novità rilevanti investigative sulle due esplosioni avvenute in città nella notte tra martedì e mercoledì. E' questa la sintesi del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza riunitosi nella giornata di ieri in Prefettura Barletta dopo i fatti accaduti nella città federiciana. Alla presenza del prefetto della BAT, ma anche di questore comandante dei Carabinieri, oltre che dei sindaci, ampia discussione sugli avvenimenti accaduti nella nottata tra martedì e mercoledì ai danni di due esercizi commerciali riferiti ad una stessa persona. Un atto intimidatorio in sostanza, su cui gli inquirenti stanno stringendo il cerchio e numerose in queste giornate sono stati i controlli e le perquisizioni. Numerose, così come le unità delle forze di polizia che saranno assegnate per questo periodo alle forze dell'Ordine andriesi, con il compito di stoppare immediatamente una possibile recrudescenza criminale.